E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su After Sales Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina o meglio questa mattina andiamo a fare il nostro ultimo morning with crypto del 2021 Un 2021 che è stato veramente molto molto intenso direi magari farò un video più tardi dove faremo un piccolo recap spero appunto possa piacervi E detto questo approfondiamo le notizie della notte approfondiamo i gainers losers di CoinMarketCap e un rapido sguardo alle chart per capire che cosa è accaduto appunto questa notte Ma come sempre prima di partire se vi piacciono questi contenuti mi invito sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale con il clic sulla campanellina A me aiuta davvero davvero tanto Date un'occhiata anche lì che trovate qui sotto in descrizione PremixBT, codici sconto, Bingbon insomma un po' di tutto li tengo aggiornati Partiamo dalla prima news che in realtà dovrebbe essere di buon auspicio Perché in realtà si guardano spesso le statistiche, quello che è accaduto negli anni precedenti Quello che ci si può aspettare appunto che accada Solitamente non sono un indicatore senza no brain Cioè ok è andata così allora andrà per forza così Però è interessante capire come è storicamente andato gennaio Allora sappiamo che dicembre in realtà si c'è un po' tutto questo discorso della presa di profitto Di andare a chiudere alcune posizioni per un discorso anche di tassazione di alcuni attori istituzionali O comunque di persone che magari movimentano dei capitali anche abbastanza importanti Ovviamente si parla sempre che questi prezzi non vengono influenzati da retail ma da attori molto più grossi Però si sa appunto che dicembre può essere un mese così Non si può fare analisi su queste cose qua Però appunto una certa sell pressure a volte può arrivare In realtà gennaio sembrerebbe che sia un mese invece positivo dal 2018 a questa parte Perché come si vede da questo tweet che va un po' a racchiudere quella che è la situazione Mi fa capire come ci sia stato un incremento sempre in gennaio Nel 2018 abbiamo fatto un più 18% Nel 2019 un più 7% Quindi anche se eravamo all'interno di un bear market Comunque abbiamo avuto dei buoni risultati Nel 2020 è stato un più 13% E il 2021 che ricordiamo tutti è stato un più 36% Quindi quest'anno qua abbiamo fatto un più 36% All'interno del mese di gennaio Portando il prezzo, lo fa vedere qui Da 28.600 a 41.400 Quindi c'era stata la prima impennata molto molto brusca e molto forte in gennaio Ne ricordiamo bene Per chi era nel settore insieme a noi Il canale infatti è nato proprio in quel periodo là Quindi me lo ricordo molto bene Tutto il resto è ovviamente da prendere un po' con le pinze Ok ragazzi, non possiamo far mai su questo Però è chiaro che a mio parere si fa interessante la situazione Perché a livello grafico ne abbiamo già discusso Non siamo in alcun bear market Stiamo semplicemente andando a trovare un low E se dovessimo confermarlo potremmo davvero fare ottime performance Chiaramente non sono nei consigli di investimento, nei finanziari Vanno tutti valutati, vanno tutti gestiti con testa Però può essere interessante E infatti io credo che Michael Saylor la pensi un po' come il post precedente Cioè è andato a comprare altri 1900 bitcoin Per circa 6 billion Ok, quindi è andato a comprare appunto 6 billion totali 94.2 milioni di dollari Ok, in ulteriore cash che viene convertito in bitcoin Chiaro che il discorso è che adesso Michael Saylor e Michael Strategy Tengono 124.391 bitcoin Per circa 5.88 billion Ok, la loro purchasing price average Quindi di media È di 30.159 per bitcoin Incluso di appunto fees eccetera Interessante perché in realtà questa media Per chi segue magari questa cosa da un po' Vede che nel tempo in realtà è sempre andata in aumento Cioè lui non è mai riuscito ad abbazzare la media di acquisto Ma anzi è sempre stata in crisi E gli fa capire secondo me come in realtà Lui creda che il prezzo Sarà molto più elevato rispetto ai prezzi che vediamo tutt'oggi Ma anche per un discorso che non è mai andato a fare un buy day dip Al di sotto della sua media d'acquisto Anche perché il prezzo non ci è mai andato Però non aspetta queste situazioni qua Ok, quindi a volte non gli è andato a sorridere perché? Perché non perché sicuramente lui farà le cose migliori Che si possano fare e tutti gli altri sbagliano Ma semplicemente perché quando questi attori vanno a comportarsi in questo modo A mio parere poi può sbagliarsi tranquillamente Ma sanno quello che stanno facendo Non penso che sia pazzo completamente E quindi a volte siamo qua noi indecisi con i nostri 100 dollari Se comprare o non comprare Uscire al top, ricomprare al bottom Quando in realtà vedete questi attori che entrano con milioni e milioni di dollari In average E quindi a volte no Noi pensiamo che la nostra strategia di DCA Dollar Cost Average Quindi un'entrata scaglionata sia una cosa da scemi E in realtà è una delle strategie che vengono adottate di più Anche da questa tipologia di attori Quindi vi faccio comprendere come neanche loro possono prevedere il futuro E quindi domani si andrà qui Poi si andrà lì Altrimenti farebbero le entrate in questo modo qua Andiamo a vedere quelli che sono i gamers Delle 24 ore Perché in realtà ce ne sono C'è Celsius che fa un più 17 Quindi bene Gnosis non conosco sinceramente il progetto Fa un più 14 in 30% Atom Ne abbiamo discusso anche nel video di ieri Di Atom Di una potenziale appunto continuazione Più 12 Bene Ave più 11 Bora più 11 Sushi Swap Corretto un po' nella notte ma Direi che è in super forma Più 11 Curve più 9 Edra più 6 Uniswap più 6 Hardware Quindi insomma ne abbiamo Ne abbiamo Di gainers Tra i losers Un po' meno Un po' meno Direi anzi No losers Perché abbiamo Iota Meno 5 Con più 13 settimanale Wobium Meno 3 BitTorrent Meno 1 Helium Stax Tron Ma se parliamo di 0 punto Quando c'è scritto 0 punto Praticamente sono no losers E poi abbiamo le nostre Stablecoin Quindi in realtà La situazione è positiva In realtà Così sembrerebbe anche su BTC Perché abbiamo Aperto Abbiamo chiuso A giornata di ieri In realtà In una situazione Anche di upper shadow Abbastanza pronunciata Però personalmente Il rapporto tra Shadow inferiore E shadow superiore Non è Chissà che Bearish Anzi È normale Insomma Medio direi E siamo Praticamente In zona Abbiamo chiuso In zona 47 150 Riaperto E ora ci troviamo in positivo 47,360 Il top di ieri è stato Sui 47,9 Quindi 48 Sarà importante vedere Se riusciamo a rompere Appunto questi 48 Comunque se la giornata Si è aperta positiva Ci possono essere Tutte le situazioni Adatte A livello di notte Perché non interessa Poi la notte Cosa è successo Perché Vi invito altrimenti A seguire il video di ieri Perché sono andato in dettaglio Anche di molti al coin Quindi Andatevele a guardare Praticamente abbiamo avuto Nulla di che Sideways 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 E poi Anzi alle 4 Abbiamo avuto questo Mini pump Con un po' di volumi Niente di che E ci ha riportato Appunto a un ritesto Da 50 Nella fascia oraria Di ora Di ora Appunto Oraria Ma niente di particolare Non c'è particolare Direzionalità Comunque sia Non c'è neanche particolare Forza bearish Perché tutte queste zone qua Sono state comunque Sostenute in questa fase qua Oraria A livello di total Ci troviamo Vediamo A livello daily Ci troviamo In zona 2.22 trillions Che mantengono Perfettamente Il supporto Della 200 Che diventa critico Subito sopra I 2 trillions E a livello di market cap Scusatemi Di dominance Siamo in sideways Quindi per il momento Questo bottom Sta tenendo Non so Non so per quanto Non so se ci sarà Un rimbalzo Però personalmente Il settore Comunque si dimostra Molto molto confidente Nelle NL Alcoin Ne abbiamo già discusso Vedremo Se avremo Un rimbalzo A mio parere Se avremo Un rimbalzo Potrebbe essere Devuto a un rally Di BTC Rispetto Alcoin Abbiamo già provato A fare Un rimbalzo Negativo Meglio Avere un rimbalzo A seguito Di un dump Di bitcoin Ma non ce l'abbiamo Fatta Ad recuperare Dominance Questo perché Appunto Il settore Si sta evolvendo In questa direzione Anche sulla Dominance E quindi Le considerazioni Da fare Saranno sempre Diverse E quindi Le analizzeremo Insieme Su questo Non vi preoccupate Io ragazzi Mi fermo qui Come sempre Se questo contenuto È stato di vostro interesse Di vostro aiuto Vi invito A lasciare un bel mi piace Appunto Su questi contenuti È stato un 2021 Per il Morning with Crypto In cui è nato Appunto Il Morning with Crypto Nel 2021 Spero che sia un format Che vi possa Far piacere Ricevere Ogni mattina Appunto Che vi tenga compagnia Detto questo E ragazzi Vi saluto Vi auguro A tutti Un buon 31 dicembre Vediamo Se vi vediamo Più tardi Appunto In video Ciao a tutti ragazzi